La Corte d'Assise di Locri, dopo circa 5 ore di Camera di Consiglio, è emesso il verdetto nel primo pomeriggio di ieri. Assoluzione piena per Cosimo Sorgiovanni, di 44 anni, di monasterace, arrestato nel 2019 con l'accusa di aver ucciso, circa 3 anni prima, l'operaio di 38 anni, Alfredo Pileggi. Il fatto, secondo i giudici, non sussiste. Nelle udienze precedenti, il PM della DDA di Reggio Calabria, Marica Mastrapasqua, presente insieme al sostituto procuratore Domenico Cappelleri, nelle requisitorie davanti alla Corte, aveva confermato l'accusa nei confronti di Cosimo Sorgiovanni, indicandolo come esecutore materiale del delitto Pileggi, ucciso per difendere l'onorabilità e la credibilità del boss egemone a monasterace. La pubblica accusa e chiedeva perciò la condanna all'ergastolo per l'unico imputato nel processo. Secondo la DDA Regina, tra l'altro l'imputato avrebbe fatto parte di un'associazione per delinquere di stampo mafioso. Si tratta del clan Ruga, operante su monasterace e territori limitrofi. Alfredo Pileggi l'ha ucciso monasterace, aveva sottolineato il PM, in quanto l'omicidio di per sé è un fatto gravissimo, qui è resa ancora più grave dalla circostanza e dal fatto che il paese se lo aspettava. Tant'è che Pileggi era stato consigliato di fuggire da un destino segnato, perché era l'amante della figlia del boss e andava salvata l'onorabilità della famiglia mafiosa.